bentornati faccio questo video in seguito a una richiesta che ho ricevuto e la richiesta è un metodo rapido indolore per scontornare dei capelli anche laddove lo sfondo non sia esattamente fatto in studio quindi non abbiamo una situazione di colore uniforme bensì una situazione un pochettino più complicata allora andandoci a sbattere un attimino la testa una cosa che ho notato subito è che la nuova funzione selezione soggetto inserita da qualche versione funziona sempre meglio per cui nel momento in cui la vado a usare anche su un soggetto di questo tipo in realtà lui riesce quasi a trovarmelo tutto fa solo un paio di errorini ma ma proprio cosa da poco perché per il resto se la cava veramente veramente molto bene a questo punto io vado a selezionare selezione e maschera e sono in modalità bianco e nero così vedo bene quello che sto facendo la prima cosa che voglio fare è aumentare il raggio e vedete che se io lo porto proprio al massimo sto andando sostanzialmente a beccare tutti i dettagli che mi interessavano di questa immagine se poi la unisco alla funzione di raggio avanzato qui photoshop mi dà una mano dopodiché posso andare a fare qualche correzioncina locale con lo strumento pennello in questo caso vado a includere delle aree che sono state erroneamente escluse ma sono assolutamente minime perché in questo caso diciamo che l'immagine un po mi aiuta nel senso che perlomeno quanto a contrasto ce la si riesce a cavare decontamino anche i colori e vediamo che adesso gli mettiamo sotto un colore per renderci conto bene di come ha lavorato vediamo che se l'è cavata secondo me sorprendentemente bene qui rimane da fare qualche correzione a mano laddove laddove non siamo stati in grado di farlo in automatico però per quanto riguarda per quanto riguarda i peli soprattutto in determinate aree devo dire che fa un lavoro veramente egregio andiamo a vedere un altro esempio abbiamo qui un'altra immagine andiamo a fare la stessa identica cosa facciamo selezione soggetto e di nuovo più o meno ci siamo andiamo ad attivare selezione maschera e siamo già in modalità bianco e nero perché rimane l'ultima selezionata andiamo ad aumentare il raggio fino a quando non ci sembra di aver raggiunto un livello ottimale che potrebbe essere questo ma si va anche un po' a tentativi e anche qui attiviamo il raggio avanzato in maniera tale che photoshop cerchi di capire che cosa sta succedendo in questa immagine di nuovo facciamo qualche correzione locale con il pennello recuperiamo qualche area che può essere andata perduta tutte cose comunque che possiamo fare anche dopo agendo sulla maschera che stiamo andando a creare mi interessa giusto dargli un po' di precisione su queste aree preferisco farlo adesso perché probabilmente adesso vedo meglio quello che sto facendo rispetto che dopo ok non bisogna neanche esagerare perché sennò poi si va a inglobare delle aree che invece non vogliamo di nuovo gli do dei contaminacolori nuovo livello con maschera di livello andiamo a dargli ok e ora di nuovo andiamo a mettergli un livello colorato sotto così vediamo che cosa abbiamo fatto sì anche qui ci sono un paio di aree da sistemare anche qui ci sono che poi andiamo a sistemare semplicemente prendendo un pennello e andando a sfumare sulle aree che ci sembrano venute meno bene tipo qui qui c'è un po' di pasticcio però è già più facile da sistemare ecco qua qui c'è un pezzettino di troppo ma questo poi si può andare a sistemare qui ci sono due due aree in cui è rimasto del blu su cui possiamo andare potremmo andare per esempio potremmo andare ad agire col timbro clone e clonare quest'area qui potremmo clonare quest'area anche qui sembra che ci sia un pochino di blu ecco per essere una cosa fatta assolutamente al volo direi che non se la cava neanche malaccio dai per completezza aggiungo che questo non è l'unico modo ovviamente ce ne sono diversi il metodo che io preferisco rimane sempre quello dei metodi di fusione questo perché mi consente laddove la mia immagine abbia un contrasto sufficiente di andare a estrapolare i chiari o gli scuri dei capelli e di fare una selezione precisa in maniera molto rapida ho il vantaggio di realizzare le immagini che mi servono il 90% delle volte quindi so come scattarle per poter usare questa tecnica laddove mi viene richiesta e questo mi facilita molto purtroppo non sempre è possibile laddove non fosse possibile e laddove nessun'altra tecnica funzionasse soprattutto con sfondi molto complicati è probabile che la cosa migliore sia andare a ricostruire le terminazioni dei capelli con dei pennelli fatti apposta dei pennelli che possono essere creati all'interno di photoshop per i quali però è assolutamente indispensabile per avere un effetto credibile l'utilizzo di una tavoletta wacom di una penna grafica o attrezzi simili che io non ho e quindi non posso mostrarvi questa tecnica però è pieno di video su youtube che la mostrano quindi io vi invito a andare a cercare il video di qualcuno che possiede e utilizza correttamente una tavoletta wacom a cercare il video di trovare 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 il video di